E ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Come saprete ora in questo periodo è Natale Siccome io ritornerò nel canale il 21 dicembre Vi vorrei augurare un sereno e buon Natale a tutti Perché io non ritornerò prima Però ritornerò il 21 dicembre E vi volevo fare ora Cioè da me e dal tutto Ultimo spazio che manca tutto Pazienza Se lo vanno al loro canale Come saprete Io vi volevo augurare questo E per le uscite del video di Minecraft Di Minecraftita Sarà domani alle ore Sperando 18 uscirà E noi ci vedremo in quello Allora vi ricordo di iscrivervi al canale Accendete la campanella e lasciate like E noi ci vedremo nel prossimo video di Minecraftita Ciao Ciao